209 Il 209 è questa bellissima testa di Tayat, Dux 1929, la famosa effigie di Benito Mussolini, Tayat l'aveva chiamata l'uomo, poi Marinetti, vedendola, disse questo è Mussolini, e lo stesso Mussolini disse questo è Benito Mussolini, come si vede Benito Mussolini. È del 1929 ed è una delle due prime tirature in ferro acciaioso, altrimenti chiamato come ghisa acciaioso o ferrofuso. Viene messo in gara a 20.000 euro offerti al banco, 20.000 per il banco, questa è un'opera storica, 21 Johnny, 21 Johnny, 22 Armando, 22 Armando, 22 Sala, 22, 23 Johnny, 22 Sala, 22 Sala, questa è un'opera storica, no, non iniziamo, ok, 22, 22 Sala, aspetto 23, 23, 23, 23, 23, aspetto 24, 24, complimenti, 24 Sala, 24 Sala per la prima, per la seconda, 1, 2, 1, 2, 3, 2. Ora, il lotto numero 210, invece, è questo nudo con maschera del 1929 di Felice Casorati. Quest'olio di Felice Casorati venne esposto nel 1967 a Firenze, a Palazzo Strozzi, alla storica mostra Arte Moderna in Italia, 1915-1935, un pezzo storico. Felice Casorati, lotto numero 210, viene messo in gara a 50, mila euro per offerta ricevuta al banco, 50, 52, 54, siamo a 55 mila euro, 56 offerti, 56 offerti, però adesso vorrei sentire, parlare voi, 58, 58 Sala, aspetto 60, 60 Anna, 62, 64, 66, 68, 70, 70, 72, 74, 76, 76, 78, 78, aspetto 80, 78, 80, 80 giorni, 80 giorni, aspetto 82, 80 giorni per la prima, 80 giorni per la seconda, 82, 82, 82, 82, 82 mi fai Anna? 88, 88, 88 alla voce, 88 per la prima, per la seconda, 1, 2, 1, 2, 3, complimenti, è un bellissimo quadro, l'otto numero 211 invece, se non ci fossi tu, Francesco Menzio, ah, siamo così? No, io però ce l'ho, posso andare? Io posso andare? Ok, Francesco Menzio, figura 1932, olio su tela, 52 per 42, opera firmata in bassa sinistra, 1982, è stato esposto a Sasso Marconi, viene messo in gara a, scusate, 6.000, 6.500, 7.000, 7.500, 8.000 per varie offerte ricevute al banco, 8.000 euro per il banco, cosa mi dicono gli altri telefoni? 8.500, chi mi fa 9.000? Aspetto 9.000 dai telefoni, aspetto 9.000, Sofia, aspetto 9.500, 9.500, Elisabetta, aspetto 10.000, 9.500, Elisabetta, aspetto 10.000 dagli altri telefoni, 9.500 per la prima, 9.500 per... 10.000, 10.000 a sala, aspetto 11.000, no, 11.000, 11.000, aspetto 12.000, 11.000 Elisabetta, aspetto 12.000, 11.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 2.000, 3.000, tu Elisabetta, 11.000, complimenti. Felice Casorati, interno, 1928, dimmi che lo vedi anche tu, olio su cartone, 31,5 per 25, autentica di Daphne, Casorati al retro, opera registrata presso l'archivio Felice Casorati, Già Galleria La Bussola, pubblicato sul catalogo generale dell'opera di Casorati a cura di Bertolino Poli. Vi ricordo la bellissima mossa di Casorati adesso a cura della Bertolino ad Alba, la Fondazione Ferrero. Il lotto numero 212, 10.000, 11.000 euro per offerte ricevute al banco, aspetto 12 da Eleonora oppure dalla sala? 11 Marco, 12 Eleonora, 13 Marco? O dalla sala? 12, 13 Marco, 14 Eleonora? 14 Eleonora, 15 Marco? 14 Eleonora, aspetto la sala, 14 Eleonora, 14, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2 Eleonora. Il lotto numero 213. Giorgio De Chirico, cavallo in riva al mare degli anni 60, circa una matita grasse d'acquarello su carta, 40 per 32, opera firmata in bassa destra, autentica di Bruni, viene messo in gara a 6.000, 6.500, 7.000 per offerta ricevuta al banco, 7.000 del banco, 7.000 banco, chi è che mi offre 7.500, 7.500, 8.000 per me al banco, 8.000 banco, 8.500 sala, aspetto 9.000 dai telefoni, 9.000 sala, 9.000 sala, 9.500 sala, 9.500 sala, 10, aspetto 11, 10, 10.000 per la prima, per la seconda, 11, 11, 11.000, 12.000, 12.000, 12.000 per la prima, 12.000 per la seconda, 12, 12, 12, 12, 13, 12.000, l'otto numero 224, Armand, del 1997, sono tubetti e colature di pittura su tela, 33x24,5, opera firmata sotto il bordo inferiore della tela, autentica dell'artista su fotografia, registrata presso gli archivi, Durama Well, viene messo in gara, 6.000, 6.500, 6.500 al banco, che offre 7.000, 6.500 per il banco, 7.000 sala, 7.500 telefono, 7.500 telefono, 7.500, 8.000 sala, 8.000 sala, 8.500 telefono, 8.500 telefono, 9.000 sala, 8.500 telefono, 8.500 per la prima, per la seconda, 1.2, 1.2, 1.2, 2. Invece l'Alighiero Boetti, il progressivo svanir della consuetudine, 1988 circa, ricamo su tela, 30,5x32,7, già Galleria Carlina Torino, archivio Alighiero Boetti, autentica su fotografia, 30, 31, 32, 32 per il banco, cosa mi dicono Sofia e Leonora, chi mi offre 33, 33 Sofia, gli altri telefoni, aspetto 34 Elisabetta, 34 Elisabetta, 35 Sofia, aspetto 36, 36 Elisabetta, aspetto 37, 37 Sofia, aspetto 38, 38 Elisabetta, aspetto 39, 40, abbiamo fatto 40, 41 Elisabetta, aspetto 42, aspetto 42 Sofia, aspetto 43, 43, 43, 43, aspetto 44, 44 Sofia, 45 Elisabetta, 45 Elisabetta, 44 Sofia, 44 Sofia per la prima, 44 Sofia per la seconda, aspetto 45 da Elisabetta, 44 per la prima, per la seconda, 1, 2, 1, 2, 3, 2, Sofia. Il lotto numero 232 è l'importantissimo Burri, tecnica mista aiuta su tavola, 20,3 per 23,5, opera pubblicata sul purificato, una sorta di mito, rassegna mensile, allegata a lettera recante, timbro della rivista Poliedro, viene messa in gara a 50 mila euro, offerti al banco, 50, che offre 52, aspetto 52, 52, aspetto 54, 54 Umberto, aspetto 56, aspetto 58, 58, aspetto 60, Marco, 60 Umberto, 60 Marco, aspetto 62, 62, 64, aspetto 66, 66, aspetto 68, 68, già fatti, 68, aspetto 70, aspetto 70, mi fai 70, 70 Marco, 72, aspetto 74, 74, aspetto 76, 76, 76, aspetto 78, 78, 80, 80, aspetto 82, 82, 82, 82, 82 qui, 84, 86, Aspetto 88, aspetto 90, 100, 100 per Johnny, 102, aspetto 104, 104 tu, 106, aspetto 110, 112, 112, aspetto 114, Marco Umberto, 112 è già fatto, aspetto 114, aspetto 114 Umberto, 114 Umberto per la prima, 114 Umberto per la seconda, 116 Marco, 114 per la prima, per la seconda, 1, 2, 1, 2, complimenti.